Illustrato il progetto che verrà realizzato fra Pietracamela e Fanodriano, presentato dalla provincia come soggetto attuatore, è finanziato con i fondi complementari del PNRR dalla cabina di regia che vede decisori la regione e la struttura commissariale Sisma. La scheda progettuale prevede investimenti per 2,4 milioni di euro con interventi che mirano a favorire la destagionalizzazione turistica del comparto montano Terramano. Investimenti strategici sulle nuove forme di turismo che registra evoluzioni rapide e dinamiche, con una richiesta che si orienta verso servizi di contesto ambientale e paesaggistico e verso nuove attività sportive all'aria aperta. Pertanto il progetto che unisce i due comuni orientato sulle ipotesi evolutive delle attività economiche e di trasformazione legate sia al turismo invernale ma soprattutto al turismo estivo compatibili con il mantenimento dei caratteri naturali. naturalistico-ambientali molto elevati dall'ambito di riferimento. Per lanciare il turismo oltre che l'economia di questi territori che sempre più sono abbandonati, 2 milioni e 400 mila euro come giustamente diceva, un fondo regionale legato anche al fondo complementare del PNRR che porterà sicuramente nuove economie e nuova linfa a questi territori. Siamo contenti perché due comuni, Pietracamela e Fanatriano, gioveranno di questo finanziamento per una zip line che li collegherà, oltre che un rafforzamento anche di una parete rocciosa che andremo a mettere in sicurezza, e un rafforzamento di quelle che sono le attrezzature delle piste di sci di Pratiritivo. Quindi un supporto importante da parte della Regione e del PNRR per questi territori. Siamo contenti e speriamo di andare avanti così.